Ed eccoci anche alla parte numero 18 del mio coverage in italiano di Poco Smeraldo. Siamo contro Frida Super 4, quella che utilizza Pokémon di tipo ghiaccio. Poco Grande Sialio è a livello 50, che ho sconfitto facilmente utilizzando Sheptile. Ora riutilizzo Sheptile sempre con quest'altro Sialio che mi viene mandato al 52, soltanto che con Fendifoglia lui resiste. Quindi utilizzo Rocciatomba, un attacco molto semplice per poterli togliere un po' di vita. Ora riutilizzo ancora una volta Fendifoglia e Sialio viene messo KO. La prossima scelta sarà Warrain a livello 53, cioè allo stesso livello del mio Sheptile. Quindi utilizzo Fendifoglia, soltanto che non è che gli faccio tantissimo. Non importa. Ora mando in campo Garden War, che conosce Onda Shock, quindi da utilizzare questa mossa contro di lui. Perfetto. Lui ho utilizzato Surf, riutilizzo ancora una volta Onda Shock, che per fortuna non ho utilizzato Ricarica Totale, e quindi gli metto KO il Pokémon. Ora mando in campo Darkoal, perché i suoi ultimi due Pokémon che manderà in campo saranno The Glalie. E quindi io utilizzo Onda Calda con Darkoal. Chiedo scusa. Con due Onda Calda metto KO con i Pokémon. Ora utilizzo un attimo Vampata contro quest'altro Glalie. e resiste, soltanto che adesso io utilizzo di nuovo Vampata. E lui ha utilizzato Ricarica Totale. Quindi si è ricaricato ancora una volta. Io con questa serie di Onda Calda non riesco a fare niente, perché in realtà mi batte. Ora mando in campo Ariama, utilizzerò viva il tiro e lo sconfiggerò. Bene ragazzi, un'altra parte del mio coverage italiano di Pokémon Smeraldo è finito. E arrivederci a un nuovo video. Ciao, ciao.